Asseggi abbondantemente chiusi, in città si è confermato un certo disinteresse per il referendum sul taglio dei parlamentari. Hanno votato solo 16.722 eventi diritto su un totale complessivo di elettori di 58.920. La parte del Leone, con numeri chiaramente ridotti, l'ha fatta il fronte del Sì, con l'82,82%, 13.787 voti. Il No, invece, ha incassato il 17,18%, 2.860 voti. Nelle ultime elezioni in Sicilia sono stati eletti in 77 tra deputati e senatori, ma dalle prossime, previste per il 2023, cambierà tutto e l'esito del voto influenzerà le scelte interne dei partiti e le alleanze per le candidature. Il numero dei siciliani da spedire a Roma si ridurrà fino a 48, al Senato si passerà dagli attuali 25 a 16, mentre alla Camera gli eletti nel Collegio Occidentale dell'Isola scendono da 25 a 15, quelli eletti nel Collegio Orientale da 27 a 17. L'altra conseguenza è che serviranno più voti per far scattare un seggio, una vittoria che comunque si sono intestati 5 stelle, che brindano anche in città. Tantissimi sì, il 70% a livello nazionale, il 75% a livello regionale in Sicilia e l'82,82% a Gela. Quindi grazie a tutti i siciliani, grazie ai gelesi, che nonostante tutto ieri sono andate a votare, perché vi ricordo sempre che siamo in piena pandemia e il Presidente Musumeci, ahimè, aveva deciso di staccare, di dividere le due votazioni. Siamo l'unica regione dove le amministrative sono state divise dal referendum, infatti si andrà a votare pure i primi d'ottobre. Questo perché? Perché si voleva mantenere bassa l'affluenza, non si voleva portare i cittadini al voto per cercare di far prendere un'alta percentuale al no. E così invece non è stato. I gelesi, i siciliani hanno dato una grandissima lezione, nonostante siamo stati in pochissimi, in pochissimi, ad informare i cittadini di questo referendum. Una consultazione referendaria che non ha affatto scaldato i cuori dei gelesi, ma ha comunque dato seguito alla campagna elettorale per il sì, condotta a livello locale quasi esclusivamente dai grillini, che alla fine dei fatti incassano una vittoria politica. Siamo stati derisi, siamo stati attaccati. Io vi ricordo gli attacchi che ho subito da parte di Sgarbi. Abbiamo avuto rallentamenti, pensate che nel Comune di Gela gli stalli per mettere manifesti sono stati messi negli ultimi 10-15 giorni, quando invece dovevano essere messi 30 giorni prima. Ebbene, hanno fatto di tutto per ostacolarci, in maniera trasversale, perché tutta la politica regionale siciliana era per il no. Era per il no apertamente ed era per il no sotto banco, perché continuava a mandare messaggi ai propri sodali. Oggi invece si apre una pagina nuova, avremo 345 eletti in meno, 345 privilegi in meno, le istituzioni lavoreranno meglio, perché adesso si partirà con una serie di riforme all'interno delle istituzioni che in questi anni hanno completamente dimenticato i cittadini ed i cittadini siciliani. E permettetemi di dire, nelle votazioni regionali, Salvini e Meloni volevano dare la spallata al governo, si parlava di vittoria 7-0, e invece così non è stato. Il Premier Conte, la coalizione del Governo nazionale, ha retto, è riuscito a prendere 3 regioni, e dopodiché si cercherà e si continuerà a lavorare per il meglio, per stare vicino a quei territori, per stare vicino a quei cittadini che ieri hanno mandato un segnale fortissimo di disagio, di disagio, contro una certa politica, contro una certa politica, con la pancia piena, con la pancia piena, che negli anni ha fatto di tutto per pensare solo ai propri interessi e non agli interessi di tutti i cittadini siciliani ed italiani.